Come ti chiami e da dove vieni? Mi chiamo Francesco Pisani, vengo da Scicheli, provincia di Ragusa. Che cosa ti aspetti dare a Sanremo? Mi aspetto di confrontarmi e conoscere tanti colleghi e il talento premiato da Sanremo, vedremo che vinca il migliore. Che cosa significherebbe per te salire sul palco di Sanremo? Il palco di Sanremo è un sacro palco, quindi tutti i cantanti che ci sono stati là dentro hanno segnato la storia di Sanremo, quindi credo che significa per me lanciare e lasciare qualcosa di indelebile nella canzone italiana. Qual è il tuo genere musicale preferito? Il mio genere musicale è il pop rock, un po' quello usato da tutti, commerciale, ma anche il funky. Se avessi la possibilità di duettare con un grande artista, quale sceglieresti e perché? Ma direi Simona Molinari perché mi piace un po' come si diverte nel suo stile musicale. Un saluto a chi ti guarda? Ciao a tutti, a quelli che mi hanno sostenuto e in particolare alla mia famiglia.